Salve a tutti ragazzi, oggi siamo su Clash Royale, di nuovo il secondo episodio, perchè il primo è andato tipo bene, molto bene Allora, siamo ancora in Arena 9, vi ho lasciato dall'ultimo punto, anzi mi sono fatto una partita prima di iniziare qua Due minuti fa, a quel tempo non lo dicevo e me lo fa, no Ah no, sì sì, questa qua potete vedere che è stata fatta 17 ore fa, questa qua non c'è perchè è stata fatta tipo due secondi fa Io 29 l'ho massacrato, figlitto Allora, mi ha dato anche il baulino, quello ha detto odiesi, il baulino, quello ha detto il baulino me l'ha dato qua Quando ho vinto 17 ore fa Allora quindi oggi spacchettiamo il bule gigante, anzi presciapiamo questo qua, dai Allora, vediamo che lo vediamo Se è quanto io non vedo che c'erano fianco, non ho bisogno ruote sempre di fare un'altra per un'altra No, no, non lo posso portare a 10 E ora è il pezzo forte, allora prima mi ti aspetterò questo Ci facciamo anche il bule della corona Allora, vediamo 1808 di oro, buono Questo è il mazzo che sto usando è sempre lo stesso Vabbè direi di partire Ah il clan ragazzi Sotto questo video vi spunterà un sondaggio Oppure lo faccio fare nei commenti Ditemi i nomi come volete che chiamo il clan Io lo vorrei chiamare DammiSero6Clan Oppure DammiSero6YouTubeClan Non lo so vedete voi cosa volete fare Ho dovuto reggiranderti al barile Preferirei partire con il barile Ma vabbè Non mi direi che c'è la strega Perché non è un po' pura Allora non abbiamo un cazzo C'è la direi di buttare subito la cazza E l'ho cosa riuscita Ah che colore Mi scambi di bastardi che stavo uscendo ora E mi chiamo solo ora Vado a cercare questa merda E troverò che non morire E che palla che non c'è Ok la strega è morta No 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 Per cosa è questo? No 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 Il boss è sbagliato No Non è malissimo Ok Ok Non è una cosa nemmeno fatto Non ho messo il quadro Non ho messo lì Io penso E invece di ammazzare Con il cappottissimo c'era Ok è bellissimo Ok No vabbè non serve il trompo Dai dai Teniamocelo Scusate se mi mettono Lo stisco Perché ho un po' di mal di gola Allora vabbè La c'era è un po' un cazzo Dai che cosa c'è la dici Mi hanno fatto cattolette Allora Vediamo Direi che ci vediamo Torni di qualcosa dietro Dobbiamo cercare di sfondare La sua difesa Certo se lui non mi dire Avrà un gigante La strega E poi le mie difese Se le vanno sul suo gigante Allora Che mi viene Tantellisi il pione Ci sarà un bordello Allora Allora Questo lo dovremmo scattare Lissima Vado a prendere Ok La dovremmo prendere Eh vabbè ciao Voglio avere la cazza più odiata Deve un gioco Quanto odio sto Vado a prendere Madonna Se vuoi Odio il potere La strega non muore mai È un bel tronchetto qua Bommarò Che cazzo devi fare A chi resta Bommarò Dai Shottatelo 12 31 Grandissimo Oh 500 Di vita Pensavo di buttare Nel gioco Sì Però Dobbiamo stare Tendere Ancce Gigante No 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 Per favore Questo ragazzi Se io Sotto solo Quanto fa male No Dove che sono andate Pezzi di mongoli Di buoni Sghietto di merda Scusi Lo vittio Lo vittio Ok Dobbiamo tenere Come dice Ciccepi Ma non dobbiamo prendere Nel più importante Di ragazzi Allora Io li metto sempre dietro Così Ah Non c'è Bommarò No no La strega Non trovo Non trovo Così Ma la deve Sciottare Una strega Può sciottare Una mazza Di una strega Qua Ok Seguiamo qua E dobbiamo tenere Voglio Donnello Ehm Così Mi ha sciottato Subito Allora Perfetto La strega Non mi è presa Non mi è Non si è molto bella Non le Tirate Tirate Il vostello Perché Non ce le due Tirate Finite Non Scorch madonna Io odio Dico E poi Le questione Di vostello Che video E poi Allora a posto a posto ce l'abbiamo fatto allora vediamo cosa ci danno vabbè ce ne facciamo allora il volume della colonna non ce l'abbiamo ce lo facciamo direi allora io direi di creare il clan ho deciso spostiamo questa cosa di registrazione che voi forse nel video non lo vedete allora esce dal clan come si faceva? crea lo chiamiamo ragazzi lo chiamiamo damix 06 youtube youtube descrizione, no il fiore però non lo voglio cosa mettiamo? qualcosa che non si vede l'italia potremmo mettere se no lo fanno tutti schifo ah la gemma è carina, questo non l'avevo mai visti mettiamo quello italiano aperto, internazionale mettiamo l'italia, l'ipo non ci trovano l'italia, l'italia 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 che l'ha messo l'iscrizione canale non me ne frega niente crea, ma devo pure pagare ho il tag clan per chi mi interessa è questo qua hashtag 2 l 0 no è una 0 1 q non la vedo hashtag 2 l o r g g c c madonna g g ok perfetto voi se volete iniziare ad entrare fate voi noi ce ne facciamo un'altra subitissimo vediamo se riusciamo a sostanzarci di profè un pochettino allora ragazzi se volete quella cosa che quando vi tocco lo schermo si vede nella mia editata la risposta è no perchè a me mi da fastidio che vedi quel pallino che mi chiede se rappresenta il mio dito dove prende mi da fastidissimo quindi lasciarlo così che è meglio guarda dovresti mai che lo usano ma anche altri di cui usa la fastidio allora diremo questo bel bari d'osso c'è il mio cazzo va avanti a bolline gigante royale tutti gli altri di casa no no un it peccato che palle ecco allora se hai il mazzi volante si hai il mazzi volante se hai il mazzo volante ma hai il mazzo volante no 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 nooo non ne hai due no 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 e 3 No, spara quello Fai torre Cioè, perdono No, princess, per favore No, perché non spari I scheletrini di merda Allora, lui c'è il troppo Aspettiamo che lui si attira Perché non mi sembra A caso girare il mazzo Tirando sta carta a casa Vediamo se riusciamo a fare Siamo in netto vantaggio Però non me la riderei Perché questo qua Mi sa che ce lo metto nel culo Proviamo Leggendo negli alba Credo No, non mi ha perso In questo caso mi ha perso Qua vettiamo Usciamo Non va bene Allora No, come lo vittio questo? Potremmente i barbari davanti Questi blupperonti Non lo trampe Non lo capisco Perché io ero Lo faccio di dire Ora c'è una dita Che non è Eeeh Lui sta dicando Non va bene Non va bene Ce l'ho messa un po' Questo Quindi Non lo capisco Ma ce lo sono presi Un po' E come faccio Vorrei Che cosa dovrei Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Eh, ma non dobbiamo fare questo Beccanine Ok, dobbiamo fare Cosa dobbiamo fare? Vabbè, troppo il cazzo Eh, però dobbiamo stare attenti Un ziff a 2 Sì, non è troppo Inche se lo riesciamo a prendere Un peccatissimo Inche a non interesse lo dobbiamo fare, ragazzi Ecco, lui sta a tempo di zirare Troppo questo E' un po' di Sì, è fratto Ok, lo stiamo a metterlo Ora dobbiamo fermare Il sottotituzetto qui Quello grosso Gira di gira di back in gira Che culo Allora, aspetta, devo fare Una cosa di molto più easy Easy da uno squibri Allora Ecco Dimmi da solo per fare un sottotituzetto No, un po' di gira Oh Vabbè, a me lo prendo l'esituzione E' un po' di gira Allora, teniamo qua Questo 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 E' questo Dove Un po' di male E' un po' di male Perché E' un po' di male Tutto E' un po' di male Ma E' un po' di male E' un po' di male Allora, non lo so, non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Boia, non lo so Sire, mi raga se la riusciamo a svingere Questa qua, a me non so, non lo so Ciao, ciao, però Aspetta, che no, te lo scrivo, non lo so Sire, non lo so Ma cosa fai, ma come fai Ma sei Gesù veramente Ma non ho parole, questo qua è fortissimo No, no No, no E' finito, ma è per caso 666 di vita, madonna In nominati con WM Vabbè, raga, non è andata l'uomo E' direi di aprire il bowl e la corona Allora Vediamoci, 200 euro, ovvero non è brutto 300, mi sono ricco Frecce ci stanno Sgheri ci stanno Arcele basta, per favore Dottore boba a dire chi la usa Beh, ragazzi, per questo video è tutto Io ora, penso che in descrizione Vi lascerò il tag del clan Però, non lo so se è utile Perché tanto alla fine lo trovate qua nel video Ora, penso, allora Posso scioccare il bollino e i goblin Se c'è, no Lo voglio portare al 5 E vabbè, ragazzi Niente, per questo è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Bye, bye